qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti si va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione wow sembra così vecchio ezio deve essere tornato qui dopo l'attacco ma perché desmond giusto apriamo quella porta qui c'è qualcosa riesce ad aprire quella dannata libreria desmond ce l'avete fatta alla buon'ora cos'è quello credo che appartenesse a ezio sotto ci sono dei numeri 1419 1420 e 1421 forse dovresti stenderti un po non è nulla sto bene questo posto è stato costruito per durare nessun danno strutturale non c'è neanche campo dovremmo essere al sicuro portiamo qua giù l'animus ok qui sembra tutto a posto son nascondi il furgone in paese e assicurati che non ti seguano ma che cos'è questo tampo sono i miei vestiti sembra che ti sia tuffato in una fogna è stata un'idea di lussi un momento ragazzi ci serve corrente qui vicino c'è un cavo al quale potrei agganciarmi ma il battaggio è basso no ma certo sicuri che non vi serve altro non so del caviale magari potrei farti un delizioso cappellino a maglia no va bene seguimi ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come fanno? Se lo capissi non sarei io quello mandato a nascondere il furgone. Come fanno? 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 Sì si è avviato. Possiamo iniziare. Mi sono mancato? No? A nessuna? Ehi sto parlando ad altavoce. Mi sentite? Staccano viste. Iniziamo subito.